Questo breve tutorial per mostrarvi come sfruttare dal punto di vista didattico-educativo le risorse digitali presenti sulla piattaforma Amlol. Innanzitutto dovete accedere con il vostro account. Una volta all'interno della piattaforma, come vedete sono già all'interno del mio account personale, potrete creare voi delle liste personalizzate, quindi caratterizzate da libri scelti da voi, tra quelli presi in prestito o scaricati, e raccoglierli, quindi raggrupparli all'interno di una sezione specifica. Cliccando sulla sezione account e selezionando le mie liste, quindi in questo modo vedrete già un esempio di liste personalizzate, ognuna delle quali potrà essere modificata, eliminando, aggiungendo, selezionando uno specifico titolo che raggruppi appunto i libri scelti e personalizzati. Si può partire da un tema didattico che si intende approfondire o che è stato condiviso dall'insegnante, quindi si crea un vero e proprio percorso di lettura digitale attraverso il tutoring per orientarsi anche nella complessità del presente, a partire appunto da tematiche attuali, e diffondere poi il progetto realizzato nella comunità scolastica dell'istituto. Si partirà dalla proposta, ad esempio alla classe, di una tematica o una scelta di libri, relativa ad argomenti che possano sviluppare competenze sociali e civiche, come la giornata della memoria, la giornata relativa alla sostenibilità dell'ambiente. Ritornando infatti alle liste personali, potete già attenzionare una lista personalizzata sulla sostenibilità dell'ambiente. In questo caso la lista, che potrà essere in qualsiasi momento condivisa con altri utenti, quindi la possibilità di rendere privata o pubblica, e in quel caso si può anche selezionare il gruppo di utenti, ad esempio con gli alunni di una classe, per condividere le proposte di lettura. È un'attività che consente di sviluppare anche dei percorsi interdisciplinari, a partire da una tematica legata ad esempio all'educazione civica, e in chiave di competenze, prettamente didattiche ed educative, e consentirà di sviluppare un apprendimento significativo. L'attività consiste nell'individuazione, da parte degli strumenti suddivisi in gruppi, di alcuni titoli di e-book, come quelli che state già visualizzando. Saranno poi letti e serviranno come punto di partenza per la creazione di book trailer. Per la realizzazione dei e-book e dei relativi book trailer, si utilizzeranno alcuni web tools, ovvero strumenti digitali utili per il lavoro di gruppo, anche a distanza, ad esempio utilizzando Canva.com per la fase di montaggio del video. Quindi dall'esplorazione della piattaforma e la scelta dei diversi generi, attraverso le copertine e gli info presenti, le informazioni appunto presenti nella piattaforma, si suddividerà la classe in gruppi, in base anche a delle passioni comuni, seguirà la scelta del libro, la lettura, la condivisione di informazioni e l'individuazione di frame fondamentali. Seguirà la progettazione degli artefatti multimediali, video e segnalibri, per presentare le risorse e scelte che dovranno essere montate in un video di lunghezza varia. È un segnalibro costruito con Canva da inserire poi nei libri cartacei e letti. La scelta delle risorse dovrà essere ovviamente motivata, il video dovrà utilizzare delle immagini e musiche selezionate, si dovranno anche dichiarare le fonti del video utilizzato, un esempio è quello che vi sto mostrando sui bestiari medievali. Avviando la presentazione potrete quindi via via vedere, scorrere le immagini raggruppate in un video montaggio su una tematica scelta interdisciplinare che riesce quindi a coniugare diverse discipline, dalla letteratura alla storia, ma anche a sviluppare le competenze digitali, quindi anche l'insegnamento della tecnologia. Al montaggio del video provvederà un gruppo di alunni scegliendo l'app che risulta più conosciuta a tutti i membri. Per la creazione dei segnalibri invece si fornirà un modello da utilizzare con l'account in Canva. Dopo la presentazione si potrà procedere alla condivisione del lavoro sulla piattaforma dell'Istituto. Un'altra attività interessante è la creazione di un audiolibro. Si parte dalla scelta di un libro o di un'opera approfondita in classe, ad esempio della letteratura italiana, come l'audiolibro che vi sto mostrando, che riguarda la realizzazione e l'approfondimento di un'opera di Ludovico Ariosso e l'Orlando Furioso. Ovviamente l'audiolibro è stato realizzato utilizzando gli audi personali dei singoli alunni che hanno realizzato commentando alcuni capitoli selezionati, scelti sotto la guida dell'insegnante. È la possibilità quindi di iniziare da una lettura autonoma, registrare singoli capitoli, post-produzione dell'audio, condivisione dell'audiolibro realizzato nel rispetto dei diritti d'autore. È un'attività che consente di promuovere la lettura, sviluppare le competenze linguistiche e digitali e si potrà sfruttare anche per il lavoro interdisciplinare coinvolgendo diverse discipline. Quelli appena mostrati sono alcuni esempi di percorsi didattici ed educativi su tematiche anche attuali che consentono quindi lo sviluppo delle life skills, abilità sociali, cognitive e personali, tali da permettere agli studenti di affrontare anche positivamente di volta in volta le sfide della nostra vita contemporanea, attenzionando anche un'educazione alla comunicazione, un uso corretto dei media, lo sviluppo del pensiero critico e la competenza empatica per il lavoro di gruppo.